Saggese, premium partner Sciuco, è al tuo fianco per la progettazione e l'installazione di serramenti, porte, outdoor, coperture e non solo. Saggese S.P.A. Serramentisti per vocazione dal 1982. Parte ufficialmente venerdì 18 febbraio alle 16.30 il corso sulla nuova drammaturgia napoletana presso la bottega degli artisti di Via degli Scipioni a Roma. Le prime lezioni si sono già tenute ai primi di febbraio e hanno visto la partecipazione di allievi che hanno aderito alla chiamata di Antonello De Rosa, costituendo di fatto il primo nucleo della classe teatrale. 30 ore di lavoro su quella che è la nuova drammaturgia napoletana condotta dal regista e attore Antonello De Rosa. C'è un forte bisogno di rinnovare il repertorio consumato da anni di frequentazione con i solidi classici e incligito da continue e ripetitive messe in scena. Antonello De Rosa, regista e attore affermato di teatro, il fondatore e il direttore artistico dell'Accademia Scena Teatro di Salerno, che conta ad oggi 280 arrivi distribuiti su tutte le fasce d'età, compresa dai 5 agli 80 anni. Le classi da trai di De Rosa non hanno alcuna barriera architettonica. Gli incontri saranno tutti venerdì dalle 16.30 alle 20.00, si comincia venerdì 18 febbraio e si prosegue venerdì 4 e 25 marzo, venerdì 8 e 22 aprile, venerdì 6 maggio, per concludersi sabato 7 maggio con uno spettacolo finale dove i partecipanti saranno parte integrante dello spettacolo stesso. Alcuni dei docenti che faranno lezioni agli allievi, oltre ad Antonello De Rosa, saranno Nadia Rinaldi, Giorgio Borghetti, Gio Di Sanno e Antonello Valitutti. Al termine del corso verrà rilasciata l'attestazione di partecipazione. Il corso verrà rilasciata l'attestazione di partecipazione. Grazie. 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 Grazie.